Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla A12 per lavori in direzione Genova, 6 km di code a tratti tra Versilia e Carrara e 4 km di code a tratti tra Carrara e Sarzana. In direzione Livorno, 3 km di code a tratti tra Massa e Versilia. Sulla FIPILI rallentamenti per traffico intenso tra Scandici e Firenze e Scandici in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori in scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Bruneta. Vi ricordiamo che per la giornata di oggi sono possibili disservizi al trasporto pubblico locale per uno sciopero nazionale che interesserà la tramvia e gli autobus di Autolinea e Toscane. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!